Allora, io ho fatto una lunga introduzione, in verità, a quello che sarà la conversazione che avremo adesso e che riguarda, diciamo, non soltanto l'attualità e quello che ci succede ora, ma questa lunga, lunga messa in sicurezza che produce l'invisibilità dei bambini. Ecco, la sicurezza come priorità che ha però un effetto sui medesimi certamente molto, molto pesante. Vogliamo partire dall'oggi e poi andare indietro nel tempo? Lei comunque denuncia con forza il fatto che i bambini siano rimasti invisibili anche durante la pandemia. Sì, certo, è la classica soluzione che rapporta il problema, come direbbe il grande Pol Vaclavic, ossia cercare la sicurezza ha creato nei bambini un senso di spaisamento, di paura, di incertezza, proprio di debacle, psicomotiva, che è sotto gli occhi di tutti, senza parlare poi degli adolescenti, chiusi in un lockdown che francamente nessuno si aspettava. Ma l'invisibilità dei bambini, questa sorta di dimenticanza, è qualcosa che si trascina da tempo, come se fossero usciti dal nostro immaginario collettivo, come se fossero usciti da un pensiero comune. Ecco, le città raramente vengono progettate considerando che ci sono i bambini, le scuole non fanno attenzione al fatto che i bambini hanno bisogno di giocare e in generale anche i servizi per l'infanzia sono in uno stato assolutamente di riduzione, basti pensare, un dato che denuncio nel mio libro, che le iscrizioni alla scuola dell'infanzia sono calate in 20 anni di 8 punti, passando al 91%, e quindi in pratica un bambino su 10 in questo momento non trova posto nella scuola dell'infanzia. Non parliamo poi degli asimini nido, dove abbiamo fai dati più passi in assoluto di asimini nido proprio e di iscrizioni, in quanto letteralmente in tante regioni d'Italia i nidi neanche ci sono. È diventato tutto un fai-da-te centrato sulla famiglia, sui genitori, e per il resto della società i bambini sembrano diventati un impiccio, un impiccio di cui dovrebbero farsi carico unicamente mamma e papà, al punto che, i dati lo dicono chiaro, fra i gravidanti e il primo anno di vita o una bambina che nasce costano in media 7 mila euro ai genitori. Tutto grava su chi decide di fare i figli, nel frattempo una donna su quattro non fa più figli in Italia e così il cerchio rischia di chiudersi in questo modo veramente, secondo me, tragico, a meno che decidiamo di invertire questa rotta che non ci porterà da nessuna parte. Andiamo per gradi, Daniele Novara. Lei è stato abilissimo nel sintetizzare, devo dire, in una manciata di minuti quello che è l'intero contenuto del suo libro. Partirei da quello che lei scrive in questo testo e che, devo dire, è uno dei suoi temi ricorrenti. I bambini hanno perso l'infanzia in nome della sicurezza e cita quattro esempi. Le strade, i condomini, le pozzanghere e gli alberi. Perché? Sì. Beh, gli alberi è il più simpatico nel senso che io che ho fatto il bambino negli anni 60, l'albero è per antonomasia un luogo dell'infanzia. Cioè, qualsiasi bambino, quando vede un albero, pensa dove è l'attacco per poter salire. E lo stesso vale per la pozzanghera. Un bambino, quando vede una pozzanghera, pensa a quali giochi può fare nella pozzanghera. Se non che l'albero è diventato pericolosissimo. Quindi, se vediamo un bambino su un albero, qualcuno, senz'altro, chiamerà la protezione civile. E viceversa, anche le pozzanghere sono diventate un luogo di sporgimento virale, diciamo, o batterico. E quindi, il bambino, progressivamente, perde il contatto, tanto più con i suoi simili. Perché il cortile era un luogo di incontro per antonomasia. Nel cortile, nelle strade, i bambini potevano avere il cosiddetto gruppo spontaneo. Questo ormai si è perso negli ultimi decenni. Ma, però, l'infanzia è questa roba qui. Mi permetto di ricordarlo. Cioè, giocare, giocare nella natura, giocare con gli altri. Il gioco del nascondino è un gioco straordinario. Psicomotorio, psicologico. Vale tanta psicoterapia. Purtroppo, quando i bambini perdono queste componenti naturali della loro vita, effettivamente, poi c'è il rischio che, come sta succedendo, gli eccessi di diagnosi neuropsichiatriche siano dietro l'angolo a ricordare... Questo è un altro punto che lei tocca. Ecco, questo è un altro punto che lei tocca. Però io volevo rimanere su questo. Perché lei, il famoso bambino tirannico di cui spesso si parla, si deve proprio a questo. Cioè, alla fine del gruppo di gioco dei bambini. Quindi, quando noi parliamo in queste settimane, anzi, questi mesi ormai, dell'isolamento dei bambini, dovuto alla situazione che stiamo attraversando, forse ci dimentichiamo di dire una cosa che lei sottolinea in questo libro, Daniele Novara, che purtroppo i bambini si sono un po' tristemente abituati a giocare con gli adulti. Cioè, non c'è il bambino nel gruppo, c'è a scuola, evidentemente, quando può, ma il gioco, il tempo del gioco è molto spesso, forse troppo spesso, secondo lei, il tempo condiviso con l'adulto. È invece importante che i bambini stiano con i loro coetanei. Questo è quello che lei sostiene, giustamente. Esatto, perché la nostra società, in una logica narcisistica autoreferenziale, dove una generazione adulta ha preso tutto lo spazio possibile e immaginabile, ha deciso, in maniera molto involontaria e molto inconscia, di abbattere e abolire la differenza infantile. Cioè, la profonda diversità dei bambini, specialmente come pensiero, perché il pensiero infantile, per antonomasia, è diverso da quello del resto della vita. Ecco, qualcuno dice che gli adolescenti sono diversi dagli adulti, ma non è esattamente così. Sono i bambini che sono diversi, diversi dagli adulti, perché hanno un tipo di pensiero concretistico e specialmente un tipo di pensiero magico, per cui riescono a parlare con gli oggetti, riescono a parlare con i componenti naturali, riescono a far giocare tra di loro i soldatini, le bambole, i dinosauri, e si mettono a scavare in un pezzo di terra alla ricerca delle ossa dei dinosauri stessi. È, come dire, straordinario il loro mondo, però oggi è diventato un problema, perché gli adulti vorrebbero mettersi alla pari, vorrebbero che loro facessero dei ragionamenti sensati, vorrebbero appunto che fossero il più presto possibile in grado di interagire con gli adulti attraverso un pensiero che non hanno. E quindi il bambino si mette nei guai. Se viceversa resta con i suoi coetanei, ecco che allora il suo mondo si condensa in un'esperienza reale, viva, concreta, non in questo gioco con l'adulto che non è un vero gioco, perché l'adulto come fa a giocare con un bambino nel vero senso della parola? Si mette in una posizione che è assolutamente diversa. Il bambino ha bisogno di trovare nel coetaneo quelle forme anche di linguaggio, di comunicazione che rappresentano una modalità alternativa letteralmente a quella adulta. Pertanto siamo nei pasticci, ecco, con adulti sempre più fragili che si immedesimano. Ecco, fragili, mi perdoni, mi perdoni Novara, lei dice che gli adulti, oltre che fragili, hanno un po' abdicato al ruolo educativo del genitore, che tendono sempre più a immedesimarsi con i figli, quindi è un rispecchiamento che è comprensibile naturalmente, ma se va in parallelo al disinvestimento sulla scuola e anzi all'atteggiamento quasi di opposizione spesso, purtroppo, fra genitori e scuola, beh, insomma, rischia di complicare ulteriormente la situazione dei bambini. C'è bisogno che gli adulti facciano gli adulti e i bambini facciano i bambini, non che gli adulti si ignottino i bambini continuando a giocare con loro. Sono degli adulti specializzati nelle cucinate con i bambini, degli adulti specializzati nella lotta greco-romana con i bambini, magari prima di dormire, adulti che la loro passione è guardare i puffi con i figli di 4-5 anni. Dico, tutto questo è simpatico, per carità, qualsiasi nonno, come è il sottoscritto, più gongola nel poter vedere i puffi con i nipotini, però i genitori hanno una titolarità educativa, ci vuole, come dire, una distanza educativa per rispettare i propri bambini nel loro essere. Il bambino ha bisogno di movimento continuo, non ha bisogno di stare appiccicato a un adulto che gli fa delle domande su il virus, sulla pandemia e come comportarsi, come non comportarsi. Il bambino segue semplicemente delle abitudini, infatti ancora oggi a scuola i bambini sono quelli che in un certo senso si comportano meglio perché sanno cosa devono fare, ma lo fanno perché c'è un pensiero concreto, pratico, operativo, che è un pensiero molto diverso. L'adulto ha bisogno di ragionare ogni cosa, il bambino invece ha bisogno semplicemente di stare dentro una situazione concreta e di viverla per quello che è, per l'abitudine che gli crea e se gli viene un'emozione è probabile che la butti fuori. Se si arrabbia si arrabbia, se è triste è triste, se è contento è contento. Ecco questo è il loro mondo, hanno un bisogno estremo di stare tra di loro. Infatti poi nel mio libro, nella dedica finale, dico proprio questo, insomma, stati con i bambini, ma più che altro aiutati i bambini a stare tra di loro. Lei dice un'altra cosa anche, Daniele Novara, mi perdoni se mi inserisco, perché dice una cosa che sembra semplice, ma non lo è. Non sottovalutate le competenze dei bambini e dei ragazzi e questo forse è il punto più importante e anche più difficile da comprendere. Che cosa intende con questo invito a non sottovalutare le competenze che ci sono, ovviamente, dei bambini e ragazzi? Certo, questo è un tema tipicamente montessoriano, di fatti dedico un paragrafo a questa nostra grande antenata, la più grande telelogista dei tempi moderni. Lei diceva che il bambino ha una competenza che non vuol dire essere uguale dell'adulto, ma un altro tipo di competenza. Per esempio ha uno sguardo diverso, uno sguardo diverso sulle cose, uno sguardo diverso, come dire, anche sulla nostra società. È importantissimo ascoltarlo. I ragazzi, ancora di più, in pre-adolescenza ci sono delle finestre cognitive che non si avranno più nel resto dell'esistenza. Il pre-adolescente è dotatissimo sul piano cognitivo. Allora, che mi so, ripropongo l'idea, ad esempio, di ascoltarli tramite i consigli comunali dei ragazzi, dove loro stessi possono collaborare alla progettazione della città, vedere quello che l'adulto ha dimenticato. L'adulto magari pensa ai parcheggi, il bambino, il ragazzo, pensa a un luogo dove potersi incontrare, dove poter giocare, dove poter stare con i suoi amici. Ecco, l'adulto pensa alla viabilità, ma il bambino necessariamente guarda anche dove poter fare delle esperienze simpatiche con gli altri. Insomma, se noi sappiamo ascoltare, costruiamo anche un mondo migliore, diciamo, perché è una città, un territorio dove stanno bene i bambini, stanno bene tutti. Ecco, il bambino è sempre stato un indicatore di benessere, di benessere. È il più importante del PIL. Senta, per realizzare questa alleanza generazionale, lei la definisce così, lei fornisce alla fine del libro nove spunti. Vediamoli velocemente insieme. Primo, creare un presidio pedagogico in ogni istituto scolastico. Perché? Perché, come dire, la scuola, in questo fai da te che si è creato negli ultimi anni, si dimentica che la base professionale è appunto la scienza della pedagogia, ossia tutto quello che attiene la competenza nel predisporre progetti di apprendimento, nell'organizzare l'apprendimento stesso. Negli ultimi anni la scuola si è decoperata proprio del senso della professionalità pedagogica dell'insegnante, come se bastasse conoscere una materia, mettersi lì, parlare, 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 lezioni frontali, a go go, questo non potrà mai funzionare. Allora un presidio pedagogico vuol dire restituire la scuola alla sua scienza, come la città ha bisogno degli architetti e degli urbanisti, come le istituzioni hanno bisogno di una loro scienza specifica. Ecco, quindi ritornare a questo elemento centrale, ma l'idea forse più originale di queste nuove proposte, perché non tutte sono originalissime, per esempio rendere obbligatori le scuole dell'infanzia non è originalissimo, peraltro c'è già però rendere i nidi e le scuole dell'infanzia gratuiti mi sembra interessante, quella proposta numero 6. Sì esatto, diversi paesi europei danno già questa possibilità ai genitori, oggi in Italia i nidi sono troppo costosi a fronte peraltro nel settore privato di stipendi molto bassi, proprio per le salatrici dei nidi. Ecco, queste sono idee che comunque hanno già le loro gambe, hanno già la loro storia, basterebbe metterle in atto. Invece un'idea veramente nuova è il bonus pedagogico per i genitori. Ecco, in un momento in cui ci sono bonus, comunque io dirai che il genitore è così disorientato sul piano dell'educazione dei figli e così anche isolato, lasciato da solo, insomma con tante tante informazioni che lo circondano veramente poche, che possono definirsi attendibili, che è un bonus che permetta a questo genitore di trovare una sponda in consulenti, libri, corsi, per favorire il sostegno a loro come figure educative. Per esempio, anche poter avere, quando si esce per il reparto di maternità, una piccola guida sull'educazione, sulla crescita educativa dei figli, sarebbe utile non solo avere una batteria di ciucci, di tutti, di tutte le misure, oio, pannolini di tutte le misure, eccetera, eccetera. Ecco, abbiamo bisogno che gli adulti smettono di signortare i bambini. E si riprendono il loro ruolo, ha ragione, ha ragione Daniele Novara. Allora, i bambini sono sempre, sono sempre gli ultimi, come le istituzioni si stanno dimenticando del nostro futuro, qui ci sono le nuove proposte di Daniele Novara, ovviamente qui c'è molto più di quello che abbiamo detto fin qui, perché è un lungo percorso che appunto non comincia oggi. Grazie Daniele Novara per essere stato con noi, davvero. Grazie, grazie ancora, grazie a voi.